ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video e dato che vi ho fatto sempre vedere tutte cose mie anche come i smalti che ho fatto vedere un video un bel pezzo fa come scusate mi traballa tutto io ho fatto vedere i smalti tutti i miei smalti vi ho fatto vedere anche tutti i major colorati ma mi mancava di farvi vedere tutti i miei semi permanenti non ne ho tantissimi e non proprio pochi dopo più in là quando sarà mi faccio una bella scorta di semi permanente sul sito dei passione unghie e niente allora ho qualche smalto semi permanente dei passione unghie ma da quelli proprio vecchi vecchi non è quelli nuovi che hanno messo adesso proprio quelli antichi e ho quattro smalti semi permanenti della color it che è una buona marca mi piace molto e avevo altri quattro smalti della shellac ma sicuramente non mi ritrovo più non so che fine abbiano fatto comunque cominciamo subito allora con questo qui che base top questo qui vanish base top e il finish insomma diciamo che questo qui l'ho vinto sul canale di manuela cinà e cinà scusami un bacio tesoro grandissime grazie del giveaway se non erro mi aveva regalato questo colore qua scusami se tesoro se mi sbaglio ne ho altri tre ma mi pare che era questo il colore che mi avevi dato e quindi partiamo con questi qui della color it allora questo qui è questo bellissimo allora in camera lo vedete proprio lilla lilla e ci è un lilla però è voi lo vedete più chiaro ma invece molto più oscuro se non erro lei mi aveva regalato cioè questo qua se non erro come colore questo è molto bello molto molto poi abbiamo un altro color it hanno vedete i numeri questo 6 90 questo qui il 200 a dovrebbe essere 100 a questo bellissimo rosso perché non vuole metà a fogo metà a fogo solo il barattolino ecco questo rosso insomma questo qua poi un altro dei color it abbiamo il 620 che è un altro rosso questo è molto più scuro questo è rosso bordo quasi più o meno questo poi abbiamo un altro gel color scusate un altro semi permanente 370 questo è l'ultimo della color it che questo bellissimo color tiffany bello e questi sono i miei gel color ai e così già il corso fissate messe per allora i semi oggi a fogo discorre i semi permanenti della color it adesso passiamo a quelli dei passioni unghie allora ho questo qui che si chiama laser lemon sg 29 che io per sbaglio ne ho presi due ho cliccato due prova vabbè ce ne avrò uno in più questo bellissimo giallo molto bello pare per lato scusate sì questo c'è di micro brillantina all'interno non li vedrete mai anche perché non mi metto a fuoco però è molto bello comunque bellissimo è metallizzato c'è l'estimico brillantina all'interno poi abbiamo quest'altro che si chiama devil pink sg 33 che questo è bellissimo rosso questo pure metallizzato scusate che lo vedo quale cose micro brillantina all'interno metallizzato bellissimo anche questo molto molto bello poi abbiamo questo qui che si chiama singapore che io l'ho operato su mia mamma ed è uno spettacolo sg 36 è veramente stupendo questo viola no non è vero non era questo scusate ma era un altro viola vabbè comunque questo è stupendissimo metallizzato anche questo è brillantinato pure questo mi pare sì con micro brillantina all'interno molto bello ecco scusate ma questo quello che ho messo a mia mamma il par non è vero ne manco era questo boh non mi ricordo vabbè questo è il purple sg 31 adesso lo dico subito sarà questo sì esatto era questo qui infatti questo bellissimo viola è stupendo ragazzi non pare ma è veramente bello ma perché non mi metta fuoco bellissimo poi abbiamo maracaibo sg 01 che questo è come quell'altro del color it color tiffany mi soltanto un po più scuro metallizzato brillantinato questo scuro è stupendissimo poi gli ultimi tre abbiamo costa rica sg 34 praticamente l'avevo presi tutti questo qui mi pare che ce l'ho anche come gel color bellissimo questo questo bellissimo verde pare un verde foresta con tutti i brillantini anche questo scusate che non mette tanto a foto fuoco la videocamera ma che posso fa poi abbiamo bahamas sg 04 questo è il penultimo questo pure un tifoni proprio chiaro pure questo metallizzato bellissimo questo comunque questo e poi abbiamo a capolco questo bellissimo celeste lsg 28 che è l'ultimo mamma mia questo è bello tanto questo pure metallizzato un po di micro brillantina all'interno bellissimo e questi praticamente sono tutti i miei semi permanente anche come potete vedere sia della color it della collettrice o anche base top finisce se può dire quindi sto a posto e di questi qui si è permanente al monof quindi sto a posto anche con questi e niente sono pochi come potete vedere però comunque volete mostrare lo stesso e io spero che i miei semi permanenti vi siano piaciuti se il video vi è piaciuto mettete pollice in su sotto il video se volete mi commentate potete dire qual è il vostro colore tra questi si permanente il preferito io vi lascio vi mando enorme bacio e ci diamo per questo prossimo video ciao